Arrivò all'Elba con la fama di ex bandiera della Lazio. Per 30 anni è stato un uomo simbolo dell'audace, sia come giocatore che come tecnico e dirigente. Da due mesi ormai a Rigodolso non c'è più, ma rimane comunque vivo nella memoria di società e sostenitori. Italomedici, storico segretario dell'audace, ricorda così il giorno in cui egli stesso riuscì a portarlo tra le file biancorosse. Tramite un mio amico Galerotti Marcello di Capoliveri giocava a Grosseto con Dolso in Serie C. E allora tramite questo mio amico Galerotti comincio a trattare Dolso che in poche parole si trovò d'accordo subito. Lo portai all'Elba e si definì gli accordi e così ci dimmo l'appuntamento all'inizio della stagione. A Rigo fu però chiamato a Ravenna in Serie C per giocare un'ultima stagione da professionista. Il matrimonio con l'audace avvenne così l'anno dopo, condolso nel doppio ruolo di allenatore-giocatore. Era la gioia vederlo giocare perché si conosceva la sua fama e tutto, però vederlo di persona, quando calciava con quel sinistro calciava il pallone, sembrava accarezzarlo, sembrava di non fargli male, era la gioia. Passato ad allenare le giovanili a volte si esprimeva duramente con i suoi allievi, ma sempre a fin di bene. I ragazzi lo capivano e hanno saputo mettere a frutto i suoi insegnamenti. Devo dire che tutti quei ragazzi che lui ha insegnato oggi, in gran parte sono diventati tutti allenatori, patentati, sono nei settori giovanili. Devo dire che ha fatto un grande lavoro, diciamo, quei giocatori che lui ha insegnato e che oggi fanno gli allenatori, sono loro che dovranno portare avanti il lavoro fatto da Rigo.